Se stai pronunciando quel sì, lo voglio, vuol dire che credi nelle emozioni e quando si fanno certe scelte, anche la casa e lo stile si sposano con te. Dotolo Mobili ti propone speciale arredo sposi, arredo completo modern life, cucina, parete attrezzata, camera matrimoniale, divano letto a soli 7.690 euro. Arredo completo contemporary a soli 9.590 euro e in regalo smart tv, lavatrice o asciugatrice. Speciale arredo sposi è un'esclusiva a Dotolo Mobili e paghi in comoterate senza anticipo. Dotolo Mobili, qualità al giusto prezzo. A passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola Caserta.